Te tu, non mi ha parlato alla signorina? Mai! Non ha importanza, ti suggerisco io, ripeti nel lettino io, sei pronto? Ripeti! Signorina, dal giorno in cui l'ho vista, non mangio più. Signorina, dal giorno... Ma se non c'è niente da mangiare! Cretino, ripeti nel lettino io, non bevo più. Eh? Ovvia! Continua, signorina, per voi non dormo più. Ma me ne fa dire di pagianate. Ma le donne si conquistano così. Ripeti, signorina, sono pronta a morire per voi. Ma che tu mi racconti? Maglieri, io m'antico. Io vorrei morire per la grulla così che neanche la rinascente la prenderebbe. Aiuto! 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 Aiuto!